Salve a tutti, ragazzi sono N1001, oggi ci troviamo su War Thunder Allora, oggi ho intenzione di giocare questi aerei Cioè, devo cercarli di sviluppare tecnologicamente Devo arrivare fino a qua Quindi sì, dobbiamo cercare di raggiungere quella posizione Iniziamo ad andare all'attacco Ecco, io combatto così No, ancora meglio Ecco, così non vedo assolutamente niente No, 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 chi è? No, no, non c'è bisogno Pronto a essere distrutto? Non guarda, 800 metri Beh, io inizio a sparare Dai Eh, ci sono riuscito, sì, ho fatto colpo Dai che ti becco e poi muori Eh, vedi, ti ho beccato Ti ho beccato, non voglio beccarlo io Con roba che capita ogni giorno Ecco No, ho sbagliato come al solito Sì, colpo No, non voglio scontrarmi contro i miei stessi alleati Ecco qua Guardate, ecco il nemico Adesso lo colpisco Prima poi morirà Non ci riuscirai a sopravvivere Secondo me si suicida da solo No, chi è stato? Rallentiamo, rallentiamo, rallentiamo Così ci supera Perché è un idiota Giù Oh No No, 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 no No Mi ha colpito Io sto precipitando Quale è Jay? No Un secondo, no, basta Ecco, è morto Mi manca veramente poco Ancora due chilometri Allora facciamo una cosa Proviamo a intervenire qui in basso Smettila Fuoco Colpo Non ha fatto niente come al solito Assist nemico Perfetto No Come al solito Collisione aerea Come non intenzione di aspettare 5 ore A vedere quei due che zironzolano a caso Torno all'angare Me ne frego Sì, sì Bravo, bravo, bravo Salta, salta Ok È finito per oggi il video Spero che vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi attivando la campanella E ci vediamo al prossimo video Ciao, ciao